Sì, purtroppo in questo inizio di stagione stiamo avendo qualche difficoltà ad essere pericolosi, siamo arrivati tante volte, purtroppo è un momento così, grazie a Dio qualche anno di esperienza, quindi so perfettamente che è un momento passeggero, abbiamo comunque giocatori una rosa fortissima, quindi anche oggi, ripeto, purtroppo al di là della sconfitta sono orgoglioso della prestazione che abbiamo fatto e sono sicuro che da ora in avanti comunque lotteremo per qualcosa di importante. Ma più che qualche scoria nei giocatori penso che sia un discorso comunque legato al campo, al momento, sia con il Cagliari sia con il Brescia, le cose non sono girate. Io penso che poi nell'arco del campionato questi momenti girano a sfavore e in altri momenti gireranno a favore, quindi io penso che dobbiamo mantenere un equilibrio, dobbiamo, al di là delle vittorie, quando abbiamo vinto due partite di seguito con due squadre forti non ci dovevamo esaltare, penso che in questi momenti non ci dobbiamo buttare giù, quindi la squadra è forte, i giocatori abbiamo tutti grande voglia e fame di dimostrare di essere una rosa importante e, come ho detto prima, sono sicuro che da qui in avanti ci toglieremo le nostre soddisfazioni. Sicuramente le partite sono figlie anche delle situazioni che si creano, siamo venuti comunque a giocare una partita fuori casa contro una squadra prima in classifica per il momento, in grande stato di forma. Penso che anche quello incida, penso che incida nei momenti anche l'avversario che vai a affrontare, noi venivamo da uno sconfitto, a loro c'è grande entusiasmo e quindi anche questo magari può essere frutto di quello che si vede in campo, magari più spinta in casa, al secondo tempo loro volevano vincere, poi ripeto, alle occasioni ce le abbiamo avute anche noi, anche al secondo tempo, quindi stiamo parlando comunque di un momento, un momento no, dobbiamo solo lavorare a testa bassa e uscirne come ne siamo usciti quando abbiamo fatto due vittori di fila.